Si aggrava di ora in ora la crisi alimentare nel corno d'Africa con una carestia che uccide oltre 7 persone ogni 10.000 tra i rifugiati somali in Etiopia. A lanciare l'allarme l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la mortalità supera di 15 volte la media della regione e colpisce soprattutto i bambini sotto i 5 anni.